Mi ha chiesto di fare delle domande, sapete che sono sempre in crisi quando devo fare le domande. Allora prima arrivando mi ha detto ma c'è gente? Che effetto fa dopo 40 anni avere Profondo Ross e questo pubblico. Veramente è bellissimo questa piazza, tutta questa polla, tutti in piedi, è eccezionale, è una grande emozione. Grazie. Cos'è cambiato all'interno dell'horror e del thriller a distanza di 40 anni e che cosa che cosa magari oggi, se avesse in qualche modo dovuto fare oggi quel film, avrebbe fatto diversamente e se l'avrebbe fatto uguale? Ma il film tra l'altro dovrebbero rifarlo in America quindi già stanno provando, stanno cercando di rifare la sceneggiatura, ma è un po' difficile rifarla perché penso che il film è riuscito abbastanza bene, quindi è difficile. Però penso che il cinema è cambiato, sono cambiate le tecniche, sono cambiate tante cose del cinema, quindi allora il cinema si faceva più distinto, c'era più amore nel fare il cinema. Oggi è più una cosa commerciale, c'è tutti questi effetti speciali che hanno reso poi il cinema un po' più commerciale, più, specialmente questi film americani, i blockbuster, che sono tutti botti, esplosioni, fiammate, quindi il cinema thriller e horror è molto differente da un tempo, un tempo c'era più psicologia, c'era più, si faceva con più affetto. Però io mi sono adattato anche ai tempi che passano, ho fatto anche i film abbastanza recentemente, adesso ne ho devo fare uno in America, insomma mi sono adattato, anche se non... io però mantengo la mia personalità e quindi faccio questi film però senza lasciarmi andare a queste nuove mode, li faccio sempre di nuovo con amore, usando la macchina una presa, perché recentemente poi la macchina una presa la sono dimenticata e quindi fanno film che sono abbastanza sempliciotti. Invece il cinema, come mi ha insegnato il grande Sergio Leone, con cui ho lavorato, è principalmente macchina da presa, quindi... ho letto un'intervista in cui diceva che rispetto all'Italia in America si aveva la libertà, sia d'espressione ma anche il rispetto del proprio stile e delle proprie modalità di lavoro, c'è ancora questa enorme disparità tra l'America e l'Italia? No, c'è una grande disparità. In America c'è... il cinema praticamente oggi vive in America, in Italia si fanno dei film più piccoli, più semplici, più... invece in America c'è... c'è... ad esempio ci sono delle... dei tecnici che sono eccezionali, sulla parte tecnica sono veramente fantastici negli Stati Uniti, si fa un cinema, dicevo prima, molto spettacolare, però anche film invece belli, impegnati, fatti bene. Recentemente ho incontrato il regista Refne, che è il mio grande stimatore, che è quello che ha fatto Drive, che è bellissimo, e lui mi ha spiegato che appunto anche lui gli piace il cinema americano, lui è danese, il cinema americano, perché c'è... c'è una tensione, una voglia di fare... quando vai negli Stati Uniti per fare un film, io ne ho fatti un paio, anzi tre... c'è questa... arrivano... è una cosa incredibile, si sparge la voce che tu fai questo film e... da tutta l'America si messaggiano, vanno e arrivano per fare gli steggisti, arrivano a centinaia, arrivano... non si sa come utilizzarli, come... dove metterli, dove farli dormire... e... e lavorano con un amore per il cinema, veramente che... in Italia non c'è ancora... c'è un certo amore per il cinema, però... per un certo cinema, che è un cinema appunto italiano, un po' più... più sempliciotto, lì invece c'è una furia che li prevale proprio... che vogliono fare cinema, quando tu fai un'inquadratura bella, in Italia non è mai successo questo, invece lì fai un'inquadratura bella e vedi tutti dietro e dicono... bravo, bello, bello, mi è piaciuta, va bene, vai, go, go... e dico, mazza, proprio entusiasmato, sì, insomma, ho fatto... insomma, ho fatto... il cinema che ho fatto negli Stati Uniti è stato molto, molto bello, molto... mi ha dato molte soddisfazioni. consiglierebbe a qualcuno, a un regista giovane, esordiente, che volesse in qualche modo intraprendere la strada dell'horror e del thriller. Qual è il consiglio che lei dà? Ma, prima cosa è studiarsi i classici del cinema di questo genere, quella lì è la cosa principale, studiarli e vedere come sono stati fatti, come... da dove vengono, come... come il regista li ha realizzati, quella è la... la cosa principale. Non bisogna arrivare al cinema, a fare il cinema con una certa ignoranza del... del mezzo, no? bisogna essere molto preparati e poi, appunto, dopo aver studiato tanto i film, avere qualcosa che ti spinge a me... io, fin da bambino, avevo una... una predilezione per questo genere di film. L'ho sempre avuta, film proprio da ragazzo, da... Quindi, quando poi ho cominciato a farli, mi sentivo a mio agio, perché li conoscevo, lo sapevo tutto di questi film. Quindi, invito a studiare molto il genere, i film, i film vecchi, i film antichi, addirittura del muto. Io da quelli che ho cominciato a trarre ispirazione per fare i miei film. E' vero? E' dei sogni? Sì, cioè, non è che li sogno esattamente che li sogno, è una questione un po' afroidiana. Cioè, i sogni mi aiutano a creare le immagini per i film. Faccio dei sogni, a volte belli, a volte un po' meno belli, e ne traggo ispirazione per fare delle scene, per fare... per arrivare nella profondità. Perché il sogno, come diceva Freud, appunto, è la... spiega la nostra profondità. e quindi io me lo... me li... i miei sogni diventano una base sulla quale poi man mano costruisco il film. Volevo chiederle che cos'è per lei la musica nei suoi film. Beh, la musica non è solo accompagnamento, deve avere una sua personalità, quindi deve... deve accompagnare il film, ma raccontando anche qualche cosa. quindi io quando lavoro con i miei musicisti mi do degli input importanti su quello che voglio raccontare, sulle atmosfere che vorrei che fossero nel film. Io amo molto la musica, la doro la musica... la musica... la musica... la musica... moderna, la musica antica, la musica contemporanea, melodramma... tutto, tutto. Mi entusiasma la musica. L'ho sempre amata fin da bambino. E quindi... lavoro molto con la musica e col musicista. Faccio un lavoro molto importante che comincia prima del film, prima di iniziare il film. Si comincia a lavorare già da prima, si comincia a capire che tipo di atmosfere vuoi incatturare. Io quando ho collaborato con Sergio Leone lui... quando c'era qualcuno che faceva interviste diceva io sono un allievo di Sergio Leone, sono il suo... praticamente mi ispira ai suoi film. Lui si arrabbiava tantissimo e diceva ma che vuole da lui? Che c'entra? Non è un mio allievo, non c'entra niente. Io faccio i film particolari che faccio solo io. e... io non vorrei dire la stessa cosa però, insomma, simile però... cioè... non... non vedo... tanti che seguono il mio stile che è uno stile molto particolare che nasce dalla mia personalità nasce da tante cose culturali che ho appreso da tanti viaggi da tante persone che ho incontrato da tanti film che ho visto quindi è difficile dire che ci sia un mio... una specie un mio allievo qualcuno che possa continuare. Alla fine dell'anno l'anno prossimo dovrei fare un... una... una serie che... negli Stati Uniti una serie di tv che... non ho visto il palloncino bello bello sì dovrei fare questa serie che è ispirata al libro da cui ho tratto il... il mito delle tre madri cioè Sospira dei Profundis invece questa volta faccio proprio una serie di 12 film ispirati proprio al libro ambientati nella Londra del 1840 in pieno simbolismo con il raffaellitismo e con il protagonista che... il protagonista che è lo scrittore del libro insomma faccio questa... questa serie il Thomas De Quince Buonasera cosa direbbe ai tanti bambini che la vedono per la prima volta questa sera per incuriosirli e tranquillizzarli per incuriosirli che il film è un film che non l'hanno mai visto quindi c'è curiosità per tranquillizzarli non è il mio compito quello di tranquillizzare grazie di essere venuti grazie 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 grazie